Harry e Meghan Markle hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio, Lilibet Lili Diana Mountbatten Winsor. A dare la notizia è proprio la coppia che ha fatto pubblicare il seguente comunicato. Il 4 giugno siamo stati benedetti con l'arrivo di nostra figlia, Lili. Lei è più di quanto avremmo mai potuto immaginare, e rimaniamo grati per l'amore e le preghiere che abbiamo sentito da tutto il mondo. Grazie per la vostra continua gentilezza e il supporto dimostrati durante questo momento molto speciale per la nostra famiglia. La bimba si chiama Lili in onore della nonna, la regina Elisabetta, il cui soprannome in famiglia è Lilibet. Il nome Diana, poi, è in onore della madre di Harry, Diana Spencer, principessa del Galles. La bimba è nata venerdì 4 giugno alle 11.40 del mattino al Cottage Hospital di Santa Barbara, in California. La scelta del nome ha già fatto discutere nel Regno Unito, e si parla di questo come di un tentativo di Harry di riavvicinarsi a sua nonna, soprattutto dopo la morte dell'amato nonno Filippo. Riuscirà Harry a riavvicinarsi alla nonna? Oppure questo gesto non sarà sufficiente? Fatecelo sapere nei commenti. Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e curiosità del momento, iscriviti al canale e attiva la campanella.